Allora, si inserisce nei numeri verdi che già noi abbiamo attivato, uno per quanto riguarda il verde pubblico, uno per quanto riguarda l'emergenza e uno per l'idrico. Quest'altro sarà uno che riguarda esclusivamente l'igiene ambientale e è il 800997474. Sarà attivato il primo giugno, funzionerà tutti i giorni, esattamente dalle 8 del mattino alle 20, ininterrottamente, quindi anche durante la pausa pranzo senza nessun problema. Da lunedì al venerdì, mentre il sabato dalle 8 alle 13. Che tipo di servizi? I servizi sono quelli che riguardano intanto gli ingombranti, la prenotazione ingombrante, quindi non si dovrà più fare riferimento al vecchio numero nelle prenotazioni online, ma le prenotazioni verranno tutte gestite telefonicamente. Non ci saranno tempi d'attesa, servirà appunto per gli ingombranti, servirà per segnalare delle situazioni di abbandono e servirà anche per segnalare dei disservizi. Sicuramente non verrà utilizzato dei disservizi perché noi non ne creiamo, però ad esempio se qualche volta si dimentica di ritirare qualche genere di rifiuto come l'umido o quant'altro, si telefona e si segnala. Riteniamo che questa modalità del numero verde sia molto più veloce di tutto quello che ha a che fare ad esempio con i social, perché ci permette di intervenire prima. Quindi lo facciamo anche per ottimizzare i tempi di risposta nei confronti dei cittadini. Poi serve anche per tutti i generi di informazioni che riguardano l'igiene urbana e in più per quanto riguarda Fano e Pergola, dalle 8 del mattino alle 14.30 di ogni giorno di cessione del sabato e della domenica, si hanno anche le informazioni che riguardano le tariffe e i piani tariffari e le informazioni sulle bollette.